Nel segno del toro tendono a frenare i vostri slanci. Fatevi consigliare da qualcuno, fatevi sostenere dalle persone che vi vogliono bene. Andiamo al segno dello scorpione, luna opposta, è una luna difficile per i rapporti sentimentali che stanno vivendo comunque un periodo anche piuttosto vivace, con delle novità, delle sorprese che arrivano dal vostro partner, nuove conoscenze, però in questa giornata voi sarete piuttosto permalosi e quindi sarà molto complicato stabilire un rapporto costruttivo con voi. Cercate di non esagerare anche con le vostre gelosie, con la vostra possessività e vedrete che i rapporti, sia quelli di vecchia data, sia quelli appena iniziati, potranno regalarvi anche dei momenti di grande intensità, passionale e sentimentale. Hai capito gli scorpioni?